Sono soddisfatto della provincia, i cavalli sono andati bene, sono andati forti e ha aiutato a me a farmi mettere in evidenza. Mi sento pronto, poi si vedrà. A contatti, sì, a contatti ne ho avuti con diverse contrade, però c'è niente di concreto. Che maestro è Gigi? È bravo, è bravo. Che consiglio ti sta dando? Visto ti ha fatto correre oggi un po' di più. Ti vuole tenere in forma. In forma, in forma. È un gran maestro. Grazie.